Soddisfatto dell'iniziativa del convegno di oggi? Sì, oggi è una tappa storica fondamentale per i distretti di Premana perché oggi 36 aziende ricevono la licenza di poter utilizzare il marchio Premana un percorso durato 5 anni che oggi vede il suo compimento quindi dal punto di vista dell'impatto che c'è sull'economia premanese oggi veramente possiamo ritenerci più che soddisfatti anche perché il numero delle 36 aziende partecipanti è un numero decisamente che lascia buoni auspici per eventuali adesioni anche in futuro Ecco, quali sono le prossime tappe poi per questo futuro? Beh, adesso per quanto riguarda il discorso degli articoli di attaglio le aziende che vorranno potranno presentare la loro domanda in Camera di Commercio per ottenere nel caso in cui abbiano requisiti le sublicenze dell'utilizzo del marchio D'altro canto all'interno del Comune di Premana si stanno predisponendo degli altri regolamenti per andare a coprire e a poter soddisfare anche le aziende non prettamente articoli da taglio che vorrebbero freggiarsi dell'utilizzo di questo logo Grazie mille